Molto più facile di quello che in realtà è Grazie a tutti Ok, purtroppo ieri abbiamo finito lo spazio sulla web, sulla fotocamera E non siamo potuti andare avanti con il video Siamo arrivati solo fino a metà lavoro Il lavoro dopo è stato semplicemente Una volta aperto anche l'altro hard disk È stato sostituire quella testina funzionante con l'altra Abbiamo riaperto l'hard disk vuoto Da qui avevamo tolto prima la testina Per rimettercela semplicemente E che ci crediate o no Il lavoro ha funzionato Adesso abbiamo qua l'hard disk collegato Abbiamo l'hard disk collegato al computer Con l'interfaccia USB Adesso stiamo montando il video da caricare su YouTube Qua abbiamo usato un tool di recupero sia di partizione che di dati E adesso vediamo che tutto sommato è riconosciuto L'hard disk viene riconosciuto Eccolo qua Sono 27,9 giga Questo dalla fotocamera non si vede che sono 30 giga Vi posterò il modello nel video Così se non siete curiosi magari potete verificare Non sto dicendo mincate Va bene Credo che mi sia andata bene Più che altro Più che bravura Grazie Ok Ok My cam yesterday stopped working at the half of the job And unfortunately the space on the camera was finished And I couldn't go on no more with the video So today, believe it or not, it works Job is done and it works Let's see, we... Here I have our hard drive with raster substituted And connected with a USB interface to the PC And now let's see... Here is the video, I'm mounting the video for uploading to the web And here is list of files recovered from the hard drive And here is the hard drive finally recognized As we can see is 27.9 giga And here is not possible to see probably And I don't know, I post the specification in the video so you could verify was the same hard drive Ok See you